Che disegni? Un maiale, ma è triste. Si sente solo, perché ha un solo amico. Ed è un vecchio procione grasso. Ho notato. Anche tu sei triste. Ti manca il papà. Possiamo sempre chiamarlo. Non possiamo chiamarlo. Sai, lui ora ormai è come quell'uccello che abbiamo seppellito in giardino. Il papà è morto. Quindi non tornerà la settimana prossima? No. Puoi fare la scimmia. Più forte. Molto più forte. Limpio! Limpio!